Campo Marzo, da cuore della Dunata degli Alpini, torna drammaticamente ad essere centro simbolico e reale dello spaccio di droga in città, simbolo di degrado che minaccia quotidianamente i cittadini che vivono a ridosso delle aree del quadrilatero. La recinzione temporanea dovuta all'installazione della cittadella alpina aveva transitoriamente spostato spacciatori consumatori e sbandati proprio nelle zone limitrofe, tra Piazzale Bologna, via Battaglione Monteberico e via che così hanno intravisto gli effetti conseguenti della prossima recinzione fissa che l'amministrazione comunale intende installare in questa parte del parco. Una recinzione, sebbene io personalmente sono favorevole, però sicuramente non sarà il modo per risolvere il problema ma soltanto per spostarlo. Ero felice della festa degli Alpini perché non ho visto nulla, anche perché c'era il controllo della polizia e quindi almeno in questi giorni di festa non ci sono stati problemi, si poteva girare tranquillamente. Invece adesso? Invece adesso, ieri sera sono uscita dall'ufficio tardi e mi sono scontrata con un gruppetto di 7-8 persone e naturalmente devo tenere qualcosa in borsa per le evenienze. non bisognerebbe, però ho la mia bomboletta spray. Perché qui sotto, a parte l'immondizia che c'è quando noi paghiamo due volte a settimana una signora che viene a fare le pulizie, perché sono cartacee, ci sono di tutto, biciclette abbandonate. Poi, cosa succede? Succede che se tu vai a dirgli ragazzi, sì, non è atteggiamento questo, ti minacciano. Ci sarà la recinzione di Campo Marcio, quella definitiva, per cui qua bisogna provvedere in qualche maniera, sin da adesso. Chi non crede che servirà allontanare? No, beh, li porterà proprio qua. A maggior ragione verranno qua. Quando noi abbiamo telefonato al 113 e dal 113 siamo andati alla polizia locale, fino a ieri sera, non si sono mai mossi. Allora, è inutile che mi diano dei numeri di emergenza quando l'emergenza che io la chiamo non è presente. Tanto vale arrangiarsi da soli. Volete che ci arrangiamo da soli? Questo non è democrazia.